Lucky Red presenta Jean-Pierre Bacry, l'ironico protagonista dei Il Gusto Degli Altri, Nathalie Bayer, Isabel Carré, Melville Poupot, quattro personaggi in preda alla bizzarria dei sentimenti. Tu credi sia possibile amare due uomini allo stesso tempo? Non saprei. Credo che se mi capitasse di innamorarmi di un altro amare sempre François. Sono sicura che non potrò mai lasciarlo. Grasso, vecchio, coglione. Perché me ne vorresti per tutta la vita? Perché non posso fare a meno di te. I sentimenti, una commedia sull'amore in cui succede tutto e il contrario di tutto. Irriverente, ambigua, imprevedibile. Oltre due milioni di spettatori in Francia. Non hai bevuto troppo? Non preoccuparti, lo smaltito appena ti ho visto. Lasciatevi coinvolgere da I sentimenti. A marzo, nel cinema.